Musica 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 Beh direi che qui siamo proprio nella location migliore, più adatta perché si possono realizzare tante belle cose dobbiamo un po' rivalutare tanti aspetti che le nostre tradizioni ci richiamano da questo punto di vista, per cui per me che poi arrivo anche da un posto della seta abitando vicino a Como era famosa, ancor più essere qua oggi è come creare un ideale asse di collegamento Beh insomma, famiglia Missoni e anche qui le mie radici me la richiamano in maniera forte è per noi un onore per una donna che con il marito ha dato veramente molto all'impresa italiana Rilanciamo il Made in Italy per l'economia È necessario ed è fondamentale riprendere da noi dalle nostre forze e con le nostre risorse per fare grande l'Italia State ricevendo sempre più consensi e parliamo ovviamente del partito nel Meridione se lo aspettava in così poco tempo Ma direi che le persone cominciano a vedere il nostro lavoro e quindi sanno giudicare quello che stiamo facendo Il Presidente della Regione Campania proprio ieri ha detto il reddito di cittadinanza probabilmente andrà anche alla manovalanza della camorra di Caserta Nord Voi come rispondete? Che abbiamo definito tutto affinché ci sia la possibilità veramente di permettere alle persone di guardare il futuro con più ottimismo per l'economia per l'economia per l'economia per l'economia per l'economia per l'economia per l'economia